Oh Ma buongiorno Mi spiace un sacco di non poter fare un video fatto bene Editato bene In cui vi ringrazio per bene Ma questi 200 iscritti Tra l'altro vi ringrazio di cuore Sono arrivati proprio nel momento sbagliato Un momento in cui veramente non ho un minuto libero Cioè nel senso ho un sacco da studiare Come sapete il mio contenuto principale Sono le live su Twitch Quindi Youtube lo guardo molto meno In più ho anche il vecchio canale da gestire Che sto cercando di far rivivere ecco E voi direte ma Toffo non è un po' troppa roba da fare Sì però lo faccio con cuore Perché è comunque quello che mi piace fare Quindi devo fare il live su Twitch E nel resto del tempo studio E ho anche la mia vita privata comunque Comunque vi ringrazio di cuore per questo traguardo Veramente apprezzo molto E non me lo aspettavo perché non vorrei dire cavolate Ma abbiamo fatto tipo 30 iscritti In meno di un mese Mi ricordo che un mese fa eravamo a circa 171 E adesso siamo a 201 Forse non ho ancora guardato Almeno ieri erano 201 Adesso non lo so Fatto sta ragazzi che vi ringrazio veramente di cuore Continuerò a fare contenuti su questo canale E soprattutto forse torneranno anche i contenuti Come li vedevate l'anno scorso Perché stanno tornando i miei amici dall'America E quindi pian piano vedrete che tornerà tutta la normalità Comincerò a fare molte più cose Quindi molte più cose uguali a molti più video E si ricomincerà come l'anno scorso vedrete Dato ciò io vi ringrazio ancora E niente torno a studiare Kent Grazie 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 Grazie